Ero curioso di vedere la tipa che a schiena aveva, ma sono andata. E questa col bastone in mano. No, questa è un panda. Buongiorno signorina, perché è col bastone in mano? Che cazzo della... Stavo registrando. Aspetta, perché ti metti l'ichinato davanti col bastone? Oddio, cosa sembra? A me sembra più che mi sia... Vabbè, ha trafitto. Ah, il cuore. Oddio, se è brutto così. Aspetta, ce la devo fare. Faccio l'inter così. Ecco, hai capito cosa voglio fare, è vero? Oh, sì. Muoviti! Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati. Anzi, o bentornati, proprio bentornati da una cosa vecchia come il cucco e alla scoperta di Minecraft. Inizia alla fine, nel culo. Ok, 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 va bene, non commento. Siamo tutti felici e contenti. E quindi benvenuti ragazzi, oggi siamo su The Hive. The Hive! E che c'è la sua, non c'è l'audio che mi dice la pronuncia? Ma chi? Sto guardando questo qua, c'ha tipo la faccia dall'incoglionito. Tipo te? Ah, è. Sempre io! La miseria. Comunque, prima di cominciare vi ricordo che abbiamo il nuovo indirizzo TS, guardate in descrizione per avere il nuovo indirizzo. Fai quella cosa. Ah, faccio. Eccoli. E però lo devi fare, che ti deve arrivare. Con le chiavi della macchina lo indico, tra dove sei. Dai, in sovraimpressione. In sovraimpressione con le chiavi della macchina. Vabbè, l'ho fatto, dai, non rompete il cazzo. Così fai vedere che sei vecchio, perché è la macchina. Tutti i video mi devi dire sta cosa. Eh, due scave, tutti i video, me lo devi dire, eh. Quindi, entrate, trovate le stanze, potete fare le temporanee, avete i simbolini, avete le sciccici. David ha sganciato i soldi, finalmente. I soldi di YouTube. Sì, sì, è che io con Rook mi sono arrivato, con Yook. Dove sei Yook? Cosa c'entra Yook? Volevo dire YouTube, ma mi è scappato Yook. Vabbè, che sei un fan di Yook. Comunque, se voi avete tipo un canalino. Io sono Yook. Io sono David. Uno, sette, basta, ta, ta, ta. Perché i nostri introdurano tre minuti, tipo? Comunque, siete dei piccoli youtuberini. Ditemi se volete fare collaborazioni. Guardo il canale, vedo se mi piace il vostro modo di parlare, il vostro quanto. Ci dobbiamo piacere la vicenda. Dobbiamo diventare amanti. Comunque, ehm... Dicevamo... No, perché sono anche minorenni, c'ho... Eh, sì, sì, sì. Andavo un filo. Che bruno. Che brutta caglia. Lo sono accorto dopo che l'ho detto. Comunque. Andiamo nel gioco di oggi. Se trovo... Qual era il coso con il che devo andare a cliccare? Name is John Cena. Parti qui, normal server. Oh, eccolo qua. Death Run. Io non so cosa sia, ma andiamo. Andiamo. Ho sbagliato. Cosa hai cliccato? Le uova. Le uova, due uova, due uova. Oddio, c'ho un taxi. Taxi! 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 Voglio un taxi, taxi! Dove sei, taxi? È qua. Qui c'è simbolo di Google Chrome. Da un po'. Qua, qua. Dove stai? Sono davanti ai cartelli per iniziare. E dove? Ma davanti? Sono qui. Sono vicino al fuoco. Sono qui. Girati. Faccio il mio barbone vicino al fuoco. No, sono io il barbone. Beh, barbone. No. Allora, qua davanti. Whitey. Il primo. Perché c'è tutti i whiting. Solo quello. È il primo. Allora, ci sono le regole. Ci vedi che sto gioco lo usano tanti. Allora, rispetta agli altri. Non usare hack. Non fare abusi. Capito, Davids. Non trollare con le taps. Cosa sono le taps? Boh. Scrivete bene in chat. Buona giornata a tutti. Ci sono le spiegazioni del gioco. L'altra. Andremo a culo. È un libro di achievement. E a me non lo impareremo. Allora, ho capito un labirinto che devi scappare dal labirinto e evitare le trappole. Lo spero per te, perché se non è così siamo fottuti. Credo che sia... Oh, ma sai che... Vai, disinziare. Vabbè, poi ti devo dire un'altra cosa. Non posso muovere? No. Dov'è Cyber? Non lo vedo. Ah, guarda. Ce l'ho sulla destra. Benvenuto in labirinto. Oddio! Il mio obiettivo... Devo saltare... Cosa succede? Ah! Questo ci sta facendo vedere il mondo e il labirinto. Ricordati. Remember. Ah, ok. Sono tipo... Fa vedere le trappole che ci sono. Oddio, ma è complicazione. Oddio, è complicazione. Puoi sbloccare anche il potenziamento del salto. Oh, gravity, no. Eh sì, c'è anche un po' di dropper. C'è anche un po' di dropper. Oddio, parkour. Ready? No, non sono pronta, no. Eh, io non sono... Cyber comunque là dietro. Eccolo là. Oh, mio Dio. Ready? Tutti are ready? No, facciamo andare avanti gli altri. Così vediamo le trappole. È vero. Sì, ma dobbiamo arrivare primi. Go. Sì, dove siamo? Non ci possiamo vedere. Oddio! No. Ma che cazzo? Ah, spariscono i... Ah, vaffanculo. Spariscono i blocchi da sotto i piedi. Ma cos'è sta mafia? Aspetta che... Ma che cos'è sta complicazione? No! Cazzo! No. Io sono allo stage 2. Oddio, ce l'ho fatta. Primo l'ho fatto. Secondo. Vabbè, dai. Secondo! Oh, no, ok. Ce l'ho fatta. No! Oddio, parkour. Oddio, ma torno all'inizio. Oddio, si torna all'inizio. Non è bella come cosa. Ma che cazzo di gioco di merda? L'abbiamo scelto anche. Tu l'hai scelto? Io l'ho scelto. Stage 2. Ok, sono arrivato anche io a stage 2. Ho visto sei token. Ma che cazzo? Ah, ok. Ma... Ah, ok. C'è un percorso sopra l'acqua invisibile. Madonna che bastardi. Madonna che bastardi. Percorso. Lo studio. Oddio, che fastidio, proprio fastidio fisico. Oddio, come si fa qua? Eh, c'è un percorso invisibile nell'acqua. Aspettami, sono dietro di te. Ah, no, guarda la pavimentazione sotto. Guarda la pavimentazione sotto. Mannaggia te, aspetta, io ero dietro di te. È una gara. Mi fotte un cavolo. Cos'è sto coso? Mi hai voluto tu fare sto game del capero. Veramente l'hai scelto tu? No, vada, 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 vada. Eh, l'hai scelto tu? Ah, no, l'ho scelto tu. Oddio, la TNT? Eh, questa. Qui ci sono i pistoni. Dai, dai, dai. Non sta... Ah, oddio. Hai finito. No, è l'ho scelto. Ah, è finito. Non sei... Io sei. Vabbè, il terzo non è classificato. Bello. Cos'è successo? Ma c'erano già lì gente. Gia lì gente? Sì. Avrei ticciare in mezzo a bugata. No, guarda, sono già lì. È lì, dì. Perché? Ah, forse sono tipo tu. O sono uno spettatore. È uno spettatore, forse. O è un admin, potrebbe essere che guarda. Let run a hive. Mi raccomando, spammiamo il sito qua. Vabbè, ma tanto tutti lo conoscono. No. No. Le api. Per sicurezza, spammalo ugualmente. Allora, lo spam è serve. Pronti? Tre. Partissi a... Uno. Via! Partito affondato! Che spariscono i blocchi a scetti piedi. No, ok, sono salvato. Ok. Opla. Ma che cazzo è successo? Perché mi hanno rimandato indietro? Perché sei avuto in acqua. No. Eh sì. Noni. Eh, cosa vuol dire? Che sta mandato indietro, è mandato indietro. No. Ostardi. Non sono caduta. Ma basta. Ma che cavolo? Ah, spavimentare per la pavimentazione. Qui invece sono TNT che esplodono a random. Dio, questa è una mappa che non conosciamo. Eh sì, ma credo che ci siano tante comunque. Sì, papà, ma che è sta roba? Donna, se c'è scarsa. Quella mappa era cambiata rispetto a quella di lì. Ah! Ah! Cosa c'è scarsa in questo punto? Ma porca! Ma porca! Ma porca! Ma porca! Ah, qua c'è. Ma porca! Cosa da seguire. Ma porca! Oh, ce lo fa. Non ce la fai. Non ce la facevo. Io ce l'ho fatta. Oddio. Ah! C'è un'altra volta. Ma mi ha dato fuoco. Infame per te, sono le lame. Finito. No, è finito. Vabbè, durava 60 secondi. Oh, ok. No, dipende dai primi carti, Ivan. Ebbè. Ma comunque 60 secondi. Sono morta 5 volte. Pochino. Eh, io sono morto 19 volte. A che stessi sei arrivati? Eh, io sono arrivata... Non mi ricordo. Io al terzo. Oddio, va che skin c'ha questa? Questa non è l'hub. Evelina. Evelina. Salve la due. Salve. Guardala. Ma buono, salve, signorina. Buongiorno. C'è un occhio rosso. C'è una malattia. Buongiorno. Venga qui, si faccia ammaliare. Buongiorno. C'è una malattia. Vedi che si è allontanata? Buongiorno. Però si è shiftata. Si è shiftata. Ha fatto colpo. Si è allontanata e si è shiftata. Ho fatto colpo. No, gli avrò... Dai, muoviti che dobbiamo diputere. Gli avrò fatto PA un colpo, più che altro. Vabbè. Ah, avevo un freddo al culo. Vi ricordo, ragazzi, se avete piaciuto questo video, vi ricordate di lasciare il pollice su, se non avete piaciuto questo video, vi ricordate di lasciare il pollice su. Commentatelo, condividetelo dovunque. Anche accesso, mi raccomando. Dicici se volete che la scoperta di Minecraft torni. Facciamo altri minigame. Quindi, ragazzi, per il momento, da... Qui, qua e qua. Eh, cagamo cazzo di te, però. Ma che cazzo? Possiamo dire che è... Finita! Buona Pasqua. Vabbè, andiamo a fuoco, però sono dettagli. Oh, eccolo qua, questo ha fatto la Challenger. Guardalo, guardalo, guardalo. Dov'è? Non lo vedo. Non lo vedo. Non lo vedo. Mi è metterizzato troppo bene, non lo vedo. Dov'è? Non lo vedo. Dov'è? Pantaxit Fritz. Vedevo solo il nome. Dov'è? Dov'è?